Siamo con Marco Sperafico di San Michele, è arrivata la prima vittoria, hai segnato il gol decisivo del 2-1, poi tutto secondo tempo avete difeso questo vantaggio prezioso, insomma immagino che siete super contenti. È stata una vittoria incredibile, finalmente è arrivata dopo tanto impegno e tanti sacrifici, sono particolarmente contento per la scuola che solo merita, anche oggi eravamo qua 20 persone, ultimi in classifica senza una vittoria, è un gruppo che merita. Allora ti diamo il premio di Man of the Big Match, intanto questo qui ovviamente complimenti e poi non è finita perché ti diamo anche il buono da 50 euro da spendere da Football Temple, lo store che è Via Torino 60 a Milano, dunque articoli sportivi, quello che vuoi insomma puoi portare a casa. Meglio di così si muore insomma, grazie mille e speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di vittorie. Grazie, complimenti, fa vedere bene il premio.